Buonasera, sono uno dei lavoratori, come ho detto ieri, praticamente ripetisco solo quello che ho detto ieri nella sala del consiglio comunale, io sono un lavoratore, ho 38 anni come ho detto ieri, per la prima volta che trovo un lavoro duraturo, per me è una cosa seria, perché non ho mai avuto un lavoro di questa durata, anzi di questo voglio ringraziare, chi mi ha portato a lavorare là, ringrazio infinitamente, perché so proprio per l'opportunità che mi hanno dato, ripetisco solo, noi ieri siamo andati nella sala e noi abbiamo solo chiesto al sindaco e agli assessori presenti, in che modo ci potessero aiutare a mantenere questo posto di lavoro, se c'era qualche modo, se loro potevano esserci d'aiuto, poi mi rispondono quando delle carte, io non sono né un tecnico di carte, né un giornalista, perché parlavo di giornalismo, delibere e cose, mi hanno detto quando mi hanno chiamato a lavorare non sono andato a chiedere se le carte sono in regolo o meno, mi hanno pagato, mi stanno pagando, mi trovo bene, è un lavoro che mi piace e vorrei mantenere tutto qua.